Ecco, volevo dire alcune parole su questa mia nuova esperienza, sì, ma Sandra, ma fammi esprimere, ecco, diciamo, sono con loro. Ecco, nonostante le difficoltà iniziali, ecco, sono riuscito a capirci qualcosa dopo un bel pezzo e dopo che forse mi sono fuso il cervello e forse si è fuso anche il dispositivo, avete capito? Ecco, e quindi, ecco, adesso riesco a gestirla un po' meglio, riesco a fare delle cose che facevo anche in precedenza, ecco, tutto qua, io vi saluto, saluto anche Sandra, eccola qua, è a fianco a me, e buonasera. Grazie.